Di nuovo Larsson, Plummer, Wolosch, il primo tempo di Sara Farra che consegna a Conegliano il sesto scudetto della sua storia ed è giusto che sia stata la giocatrice che più ha sofferto in questi anni per i suoi gravi infortuni a mettere a terra la palla decisiva di questo scudetto 2023.